Questo libro racconta un lungo viaggio che ho compiuto in Italia nel 2019 cercando di capire quanto fossero vistosi gli effetti dei cambiamenti climatici nel nostro paese. Quindi ho viaggiato per alcuni mesi attraverso l'arco alpino, nella Pionola Padana, a Venezia, nelle zone colpite dalla tempesta vaia, parlando con gli agricoltori nelle zone di maggiore produzione, andando in Sicilia, in Sardegna, insomma ho attraversato tutta l'Italia e ho cercato di parlare con le persone che vivono sul territorio e che vivono del territorio, cioè quelle persone che stando sul territorio ti possono raccontare effettivamente cosa sta accadendo e quello che ho raccolto è un grido di paura, un appello all'azione, perché chiunque vive sul territorio ti dice che sta accadendo qualcosa di molto importante, molto rilevante, di epocale. C'è un aumento incredibile di eventi atmosferici estremi, venti mai visti prima, grandinate eccezionali, piogge alluvionali oppure grandi ondai di calore e siccità. C'è un aumento di specie aliene che colpiscono i campi agricoli, come per esempio la cimicia asiatica, ma non solo. C'è un andamento completamente erratico del clima, nel senso che magari fa troppo caldo quando dovrebbe fare freddo e poi fa freddo quando dovrebbe fare caldo e quindi saltano quelle che sono le stagioni. L'Italia è, nel racconto di queste che io definisco le sentinelle ambientali, le persone che ho incontrato, ma anche nel racconto degli scienziati con cui ho parlato, è un hotspot climatico, cioè è un luogo dove gli effetti del surriscaldamento globale sono più vistosi che altrove. Noi pensiamo sempre al cambiamento climatico come qualcosa che non ci riguarda da vicino, che riguarda paesi lontani, il sud-est asiatico, gli atoli del Pacifico, oppure riguarda generazioni future che ancora non esistono. I nostri nipoti, si dice nella narrativa che dobbiamo fare qualcosa per le generazioni future. Io dico invece, da quello che ho visto e che ha stupito a me per prima persona girando per l'Italia, il cambiamento climatico è qui e ora da noi e quindi impone un'azione importante, urgente, di mitigazione delle cause ma soprattutto di adattamento agli effetti. Noi dobbiamo adattare i nostri territori a quello che è il nuovo scenario climatico. Che cosa vuol dire adattare i nostri territori? Vuol dire renderli meno vulnerabili, più resilienti, cambiare il modello ridurre il consumo di suolo, bloccare il consumo di suolo, cambiare il modo in cui si vive nelle nostre città, cambiare il modo in cui si produce il cibo che noi mangiamo, cambiare il modo in cui si gestiscono i nostri rifiuti riducendo la produzione di rifiuti. Insomma ci deve essere tutto un ripensamento perché la crisi sta avvenendo adesso e la crisi deve essere trattata con la dovuta tempestività per evitare che gli effetti più drammatici poi si realizzino e quindi effettivamente la situazione diventa poco sostenibile. L'informazione ha un ruolo importantissimo di sensibilizzare, raccontare e creare consapevolezza. Su questo tema particolare io credo che noi giornalisti abbiamo anche una responsabilità rilevante nel senso che lo abbiamo molto trascurato e lo presentiamo sempre in modo episodico e poco sistemico. Nel senso che sui giornali si parla di maltempo, di eventi eccezionali che accadono e non si cerca di andare alle cause di questa crisi e non si cerca di raccontare la crisi nella sua interezza. Il tentativo che ho provato a fare io è di raccontare delle storie perché noi come esseri umani, come homini sapiens, ci nutriamo di storie, dal neolitico ci piace raccontare le storie. Quindi mi sono chiesto ma perché il cambiamento climatico non viene mediatizzato, non colpisce l'opinione pubblica e forse perché è spesso presentato come un susseguirsi di dati. Se a questi dati noi diamo concretezza a questi dati attraverso delle storie, storie di persone in carne e ossa che vivono gli effetti del cambiamento climatico, che cercano di adattarsi a questo nuovo mondo in cui ci troviamo a vivere, che mettono in campo delle strategie di resistenza, allora forse è più facile che il tema arrivi e che l'urgenza dell'azione diventi di dominio pubblico.